14 decessi a Castiglione, oltre 80 positivi, una trentina ancora oggi devono completare le cure per poter guardare al futuro. Con ottimismo il suo paese sindaco ha pagato un prezzo molto alto in questa emergenza sanitaria. Purtroppo è il comune che ha pagato il prezzo maggiore in Abruzzo, penso anche in Italia. E ahimè però piano piano stiamo tornando a una seminormalità, tutti i positivi stanno andando verso la guarigione e siamo nei numeri che sono abbastanza incoraggianti in quanto abbiamo più guariti che positivi. All'inizio a gran voce abbiamo chiesto con tutti i sindaci la zona rossa perché noi l'abbiamo ritenuto opportuno subito, visto il numero di positivi, per noi che viviamo il territorio che qualcosa non andasse, per preservare la regione intera e la provincia di Teramo chiedevamo appunto questa zona rossa. Alla fine è stata istituita, ci sono stati anche fatti i tamponi, non a tappeto come chiedevamo, però a un largo spettro di popolazione. Adesso la situazione è migliorata ma mi auguro che l'attenzione sanitaria non si abbassi in questi territori perché comunque non ne siamo ancora fuori. Chiedete che vengono fatti i tamponi un po' a tutti gli abitanti della zona? Ma guardi, se non si possono fare i tamponi almeno chiediamo che una buona parte dei serologici che ha a disposizione, dei serologici che ha a disposizione della regione Abruzzo, possano essere fatti nella nostra zona. La popolazione sta reagendo con voglia di ripartire, anche le imprese, le partite IVA sono in ripartenza ma hanno bisogno purtroppo di uno slancio e di un aiuto perché i mesi di lockdown pesano e è ancora di più la zona rossa, quindi hanno bisogno di una spinta e di un aiuto. Grazie a tutti.